Mi pare che la principale osservazione che oggi si può fare è che viviamo in un tempo in cui i giovani non stanno tanto bene, non è riservato a loro molto spazio, non hanno sempre le opportunità che dovrebbero avere. Insomma, i nostri giovani non possono fare i giovani quando sono i giovani, perché è proprio dei giovani il compito di ereditare il mondo, di trasformarlo, di renderlo più umano, di renderlo maggiormente adatto alla vita umana sul pianeta. Ma cosa succede in questo tempo? Succede che gli adulti non fanno gli adulti e gli adulti vogliono fare i giovani e quindi non permettono ai giovani di fare i giovani. E questo perché appunto siamo nel tempo di Peter Pan. Gli adulti si sono innamorati così tanto di questa terra, di questo mondo, che non vogliono più lasciare spazio a chi viene dopo. Ma questo è un grosso problema. Anzi, per gli adulti il tempo della giovinezza è così importante che pensano che i giovani non hanno più nulla da avere oltre alla giovinezza e in questo modo li condannano alla solitudine, alla marginalizzazione. E allora che cosa possiamo fare? Cosa chiedere ai giovani? Che cosa la Chiesa può fare insieme con i giovani? Penso due cose principali. La prima è ricordare la bellezza dell'essere adulto, cioè ricordare agli adulti, che la vita ha senso anche se la si vive da adulti. Non c'è bisogno di fare giovani per essere veramente felici, ma si può vivere anche da adulti, soprattutto riscoprendo questo fascino dell'adultità come la capacità di dare la vita, di dare gioia. Riscoprire che per noi esseri umani la felicità non è solo prendere, ma è soprattutto dare. Che la gioia non è solo essere solipsisticamente contenti con se stesso, ma è c'è la gioia di dare gioia. E nello stesso tempo riscoprire quella che è la verità della giovinezza. Ecco, nella nostra società pensiamo che dire giovani significa subito essere felici, subito essere al massimo, al top. No, la giovinezza nella sua verità è un periodo particolare tra i 20 e i 30 anni in cui uno ha tanta forza, tante idee, ma tutto questo serve per prepararsi a diventare adulto. E proprio questa preparazione climatico, di scelte, a volte anche complicate, difficili, che noi tendiamo a dimenticare. E il segreto per vivere bene sia l'adultità e sia la giovinezza, il segreto per cui quando gli adulti fanno gli adulti, i giovani possono fare i giovani, è molto semplice. Non pensare che la vita, l'enigma della vita si risolva rispondendo alla domanda chi sono io, ma che quell'enigma si risolva rispondendo ad un'altra domanda. Per chi sono io? Chi sono chiamato a rendere felice? A chi devo portare la felicità? Questo è il segreto della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.